Cosa fosse successo? Non lo so. Era imploso tutto. C'era come se nel momento che avessi avviato la live, nel momento che stesse facendo il download, cioè, nonostante il fatto che fosse finito il download dell'aggiornamento, stesse comunque continuando ad avere il bitrate bassissimo per colpa del download. Cioè, una cosa stranissima, cioè una cosa stranissima, ma solo a me, solamente a me. Come sia, signori? Benvenuti nella live. Come state quest'oggi? Già. Ho avuto un paio di contrattempi, diciamo. Cioè, già la doccia è un contrattempo. Cioè, non rendetevi conto, mi doccio all'ultimo, dovrei docciarmi prima, invece succede sempre che mi doccio all'ultimo. Poi, poi ho fatto un attimo di sperimenti con mio padre, che magari, magari il vecchio computer rimane comunque in questa casa, è come l'uso mio padre un po' con dei magheggi strani. Praticamente abbiamo acquistato un cavo speciale, che fa tipo DisplayPort versus Mini DisplayPort, cioè da A. Praticamente adesso sul suo Macintosh sta usando il mio computer. Adesso ha avuto un paio di problemi, adesso sta provando a reinstallare Windows. E nulla, io invece sono arrivato qua in live. Quindi, signori, come va quest'oggi? Siete pronti per continuare la nostra avventurone qua? Ah, io spero proprio di sì. Intanto, come forse avreste potuto intuire, rispetto agli altri giorni, oggi non ho minimamente avuto il tempo di avvisare nessuno. Quindi, che ne dite? Avvisiamo i nostri corsari del web? Ma avvisiamoli, avvisiamoli. Avvisiamo pure i nostri corsari del web, che sennò qua non lega arriva nessuno. Vediamo un po'. Vediamo sul nostro telegrammone. Quindi, corsari, nonostante i problemi tecnici iniziali, Adesso siamo pronti a salpare. Destinazione The Medium A posto. E uno, e le si andà. Adesso avviamo The Medium. Vai computer, vola! Cioè, scusate, questo aggiornamento di The Medium ha messo un terzo launcher. Cioè, come se due non fossero abbastanza. Ha messo The Medium di X12, che sarebbe DirectX12, e launcher. Launcher. Contentilo. Contenti loro, contenti tutti. Andiamo. Molta paura. Cioè, mi sta chiedendo di usare DirectX11 o 12. Ho continuato a usare il 12, sono compatibile col 12, fammi usare il 12, ti prego. Sta partendo? Ovvio, desktop, ti prego. Ma anche adesso cosa è successo? Mi è esploso tutto, mi è esploso, sembra. Ma questo sapete cosa? Mi sa che è stato l'aggiornamento di Windows. Mi sa che l'aggiornamento di Windows lega un po' distrutto le mie impostazioni. Menomale che la musica no. La musica andava. Vero che la musica andava. La musica andava. Sì, la musica andava. Quindi adesso, no? Il microfono funziona. Se io vado qui, fa tutto. Sembra di sì. Perfetto. Speriamo che non abbia distrutto proprio tutto, tutto. Quindi, cattura gioco, cattura gioco, cattura gioco. Proprietà. Ed eccolo qua, il nostro The Medium. Medium, sarebbe qua. Eccoci! Pronti! Pronti e carichi! Congeniamo! Cuffioni della morte! Letteralmente della morte! Vai! Giusto! Eravamo nella ca... Ma cosa succede? Perché oggi? Perché oggi il mio corpo e la mia tecnologia, tutto quanto non va... Bene. Allora, vediamo di fare una bella, una bella foto per Instagram, signori Marienne. Le sei pronta? Le sei pronta? Le sei carica? Mi guardi in faccia... Mi guardi in faccia, signorina Marienne! Ma... E ho interessato a tutto tre... Guardi lo specchio, allora. Guardi lo specchio qua. Brava, brava. Le piace lo specchio? Sì, sì. Bellissimo lo specchio, vero? Bellissimo? Marienne. No! Perché adesso non va l'audio? Perché adesso non va l'audio del desktop? Cosa succede? Cosa succede? Perché oggi? Perché mi succedono tutte? Oggi mi succedono... Postazioni, che problemi hai adesso? Che problemi hai? Uscita audio. Tutto completamente impazzito. Completamente impazzito, eh. Ma questo aggiornamento di Windows che mi ha fatto ieri ha... Ma ha distrutto tutto, ma l'ha distrutto. Ma scusate. Ok, a posto. Eh, meno male, oh. Meno male. Dico io, meno male davvero? Bene. Avvisiamo anche i nostri instagrammari. Che ne dite? Eh, che... Che disastro. Questa... Questa live è un disastro. Fin dall'inizio. Perfetto. E io ti sto dicendo... Oh, ma che bello che da due giorni di fila sto facendo il breve influencer. E invece adesso si sta rovinando... Tutto si sta rovinando. Marianne! Come il mio gatto. Ecco, brava, brava. Mi guardi qua. Bravissima. Guarda, non poteva venire migliore. Almeno questo. Abbiamo superato i problemi tecnici. Adesso possiamo partire per The Medium. Vi attendo su Twitch. Eccoci qua. Mettiamo qua su. Pronto? Ora è la mia storia. Vai. Andiamo. Adesso... Possiamo partire. Quindi. Adesso vediamo un po'. Esattamente cosa avevamo fatto l'altra volta. Avevamo messo le... Le foto nel giusto ordine, giusto? Vediamo un po' cosa... Eh, la maschera. Ok. È estremamente familiare. Ok, ok. Quindi dovevamo riprendere la maschera. Maschera della gioia. È ok. Fin qui ci siamo. Grazie. Torno indietro. Devo ricordarmi un attimo i tasti. Infatti giocare due giorni di fila Remnant... Mi ha un po' scambussolato. Si può scendere. Si può tipo... Scendere. Ah, mi sa che le scale erano al mondo reale. Le scale erano al mondo reale, Cois. Sì, sì. Sì, sì. Le scale erano al mondo reale. Eccole. Ah. Sono un po'... C'è qualcosa però. C'è qualcosa laggiù. Dai. Ma c'è qualcosa laggiù. Anche qua se per questo. Cosa c'è laggiù? Ah, è così vicino. Ma allo stesso tempo così lontano. Che basterebbe che passasse, strisciasse lì sotto e ci arriverebbe. Mamma mia che a volte i personaggi dei videogiochi mi sembrano un po'... Ah, è vero. Questo c'era qui anche l'altra volta? Era... Oh mio Dio. Non dirmi che spostando lo specchio mi sposto nelle cose. Sembra che qualcosa sia cambiato, no? Vuol dire che se io adesso vado a uno specchio... Vado nella stanza... Vado nella stanza superiore. Lo sapevo. Le vambri, gli specchi. È tutto collegato. E questa cosa sta diventando... Familiar? L'ho trovata la vecchia stanza, signorina Marianne? Maschera della gioia. Ah, la farfa... Va bene, ho capito. Serve una figurina, serve una figurina. Va bene, grazie. Qui cosa c'è di bello? Un altro specchio? Cos'è? Bellissimo, sì. Va bene. Oh, ma sempre... Sempre più lento. Ah, ma devo tenere premuto sinistro. Ma chi... Ah, un'altra farfalla. La sensazione è che nasconda qualcosa. Farfalla gialla, farfalla rossa. È ok. Ce ne mancano però altre due, no? Perché la cosa era un po' distrutta, se non sbaglio, no? Oh! Ah! Quattro spazi, quindi quattro farfalle. Beh, insomma... Grazie, Marianne, grazie. Allora, qui va la rossa. Qui in mezzo la gialla. E sugli altri due dobbiamo scoprirlo. Perché l'asse di legno è assolutamente irreparabile. C'è qualcos'altro? Vai, Marianne, usa... Ah, no, qui non puoi usare... Pensavo che fosse tipo super potente quella roba strana che non possiamo tagliare, facesse un'aura distorciente. Invece no, era il mio computer che ha fatto cose. Però va bene. Non si è aggiornato, vero? Devo indovinare. Dovrò indovinare. Cioè, magari c'è qualche indizio, eh. Magari qualche indizio lo trovo. Intanto però controlliamo l'ultima stanza. Direi che è proprio... Esatto, specchio giocattolo. Sì, grazie mille. Lo mettiamo in quest'ultima stanza. Eccolo qua. A posto. Quindi, che cosa troviamo nell'ultima stanza? Che immagino sia la stanza di papi e mami. Giusto? Sta cercando di mandarmi via. Ma guarda, se è Monster House... Beh, certo che noi sappiamo dove va. Cioè, gra... Mariana ha cominciato a fare i tutorialoni perché... Mi sa che le persone non riuscivano a finirlo. Le persone non riuscivano a finirlo e adesso sta cominciando a fare i tutorialoni pazzeschi. Sì, bravi, bravi The Medium, bravissimi. Cosa c'è qui dietro? Una farfalla blu. Farfalla blu, però noi non sappiamo che farfalla vada... Poi, dopo la gialla. Lily! Vi odio. No, Lily, no! Ma, sì che si può. Ha parlato Fauci. Maschera. Maschera della calma. Mentre la maschera erano questi gli amici di cui parlava tristezza. Può essere. Quindi c'era gioia, calma. Però perché calma parlava con Fauci? Faccio mi sembra tutto tranne che calmo, sapete? Faccio mi sembra solamente tutto tranne che calmo. Posso aprire? C'è qualcosa sotto? Guarda, se adesso spunta Fauci con un cappello di compleanno, guarda, giuro che... Mi metto prima a ridere e poi a piangere perché vengo mangiato vivo. Quanto duro? Quanto duro è? Grazie. Cosa c'è? Cosa c'è? Le maschere! A tea party with the devil. Cuppet. Na 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 na, na 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 na, well, the devil will take their heads. Che bella, che bella, è bellissima quella, è la canzoncina dei Ticapet, è meravigliosa all'inizio. Devo identificare i bambini, quindi. Su qualcuno andrà la maschera di gioia, su qualcuno andrà quello della calma. Ah, sulla foto magari. Magari c'è una foto. Magari c'è una foto dei tre bambini, eh. Adesso proviamo ad andare a vedere le foto. Sono bastante sicuro che ci fosse una cosa dei tre bambini. Sì, però fammela vedere, Marianne. Dai, non fare la... Fammi vedere come si faceva. Ah, questo. Non mi fa vedere, non mi fa... Che bella. La risata di là, del mago di bronzo, là, di... Come si chiama? Di... Di... Black Clover. Che bell'anime, Black Clover. Sto aspettando... Devo guardare un sacco di episodi. Allora. Intanto. Lo disegniamo questo qui dove deve andare. Eccolo qua. Non ho bisogno di dire, mi ha portato via la mamma. Hai capito. Questa è bianca. Hai capito un po' cosa sta succedendo qui dentro a chi? Qui dentro a chi? Qui dentro a chi? Sta succedendo che la madre di Lili e Marianne se n'è andata per colpa del parto di Marianne. Quindi Lili è la sorella maggiore, teoricamente. E Marianne è la minore. Cosa strana. Facciamo allora... Prima blu che ho trovato la blu e poi la gialla. Te lo dico io cosa hai sbagliato. Hai chiaramente sbagliato le ultime due. Sai perché? Perché le prime due sono giuste. Quindi inverti la mia cara. Qua la bianca e qua la blu. Salvati. Lascia che ti aiuti. Nella sala di lei? Lasciala qui. Falla bruciata. Fauci era già presente. Maschera della meraviglia. Questo posto è un cimitero di emozioni. Ma va. Che cosa strana però. Non mi aspettavo che Fauci fosse già vivo. C. Fauci non si era formato da tutte le brutte emozioni che giravano in quel posto. Però era già vivo e vegeto. Vivo e vegeta. Ah ah. Goku e vegeta. Ah. Va bene. Che battutaccia. No! Metti sto specchio ti prego. Lentamente. Ecco. A posto. E nulla. Adesso devo. Non mi pare di aver visto nulla. A parte una foto. Forse. Però. Non. A quanto pare. Non posso vedere più. E quindi nulla. Mettiamo le maschere dei amici di Lily. Quindi amici di Lily. Ehm. Tu sei. Lo so. Capisco. Sento il tuo dolore. Perché sentiamo le voci di Fa? Perché sentiamo la voce di Fauci? Che meraviglia tu. No. Possiamo mostrarglielo. Possiamo farglielo capire. Facciamo sentire cosa si trova. Che inquietante che sei Fauci. Ma. Ma. Ma non posso lasciatelo qui. Sì. 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 Che maledetto. Mami. Sì. 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 Livere mi vi salverò entrambe. Ai 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 ai. Esci dallo specchio. Esci dallo specchio. Esci dallo specchio. Proviene da lei. Sì. esatto eh troviamola troviamola dobbiamo trovare tristezza ok io adesso quasi intatto cioè se adesso succede che tristezza si deve sacrificare anche in forma spirito per distruggere il fauci veramente sarebbe tristissimo il tutto quanto questo è il pezzo mancante è là fuori da qualche parte di questo sono certo già solo il fatto che io sia qui seduto a scrivere e non a sbavare il in in un angolo ne è la prova devo solo trovarlo ironico ho sempre voluto stare da solo essere l'unico quindi quindi l'ha sbarrato e quindi è essere l'unico ora inizio a pensare che non siano mai esistiti due di noi forse siamo sempre stati due facce della stessa medaglia in ogni caso ho bisogno di lui ho bisogno di me stesso per salvarla tu ah no tu sei fair non c'è chi l'ha scritto noti di nuovo preoccupato che sia Thomas non lo scopriremo molto presto mi sa e anche oggi mi imprude il naso in maniera pazzesca ah lei un'altra nota sempre un uomo preoccupato c'è un modo oggi 27 febbraio è il suo compleanno mi ricordo da sempre il momento in cui la vidi per la prima volta quella minuscola e meravigliosa creature e quel tempo avrei fatto di tutto per essere suo padre per far tacere quell'altra parte di me e ora sto disperatamente cercando di farla riemergere per aiutarla per salvarla cosa deve finalmente trovare un modo è rischioso ma è la nostra unica possibilità se fallisse no funzionerà deve funzionare ok quindi qua è sto Thomas che sta cercando di di far riemergere i suoi poteri quindi il potere che tra l'altro il suo potere è molto più distruttivo del nostro cioè letteralmente distruttivo distrugge lo spirito lui noi invece abbiamo il potere di The Medium noi siamo proprio dei mini oh oh dov'è? qua via cosa c'è? prendi l'incendio la voce non l'avevo invitata ma quindi fa ucchichia esattamente se non è una creazione se era già preesistente in tutto quanto no per perché era intrappolato? dov'è? è quasi leggibile fammi leggere il ciuuta questione di tempo negozio di orologi crocovia via grozka ordine 342 costo 600 z data 14 14 4 del 76 qui ahhh vai tronchesi spacca tutto perfetto cosa c'è? è stato con tanto amore ma c'è anche tristezza fece anniversario 10 anni il tempo vola è letteralmente come se lì devi tenerlo d'occhio ti amo scemotto oh mio dio oh mio dio la madre di marianne la madre di lili la moglie di thomas era era vicky dei fantagenitori spero di no però spero di no perché non me la vedo vicky come madre forse anche tutto bruciato dov'è 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 qua dov'è marianne? oh carina lili siamo andati in coma ahhh ma va da un po' cosa scopre marianne cosa scopre marianne? mmm 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 e dove? cosa succede? ma guarda adesso dobbiamo appena scoprirlo dobbiamo scoprirlo adesso adesso lo becchiamo thomas un diverso tipo di malattia è malata ma non è una malattia fisica lui aveva ragione quella terribile notte si è risvegliato qualcosa qualcosa dentro di lei è nato e la sta divorando dall'interno si vuole la sua forza il suo corpiccio non si debolisce devo fare qualcosa dobbiamo fare qualcosa ok quindi probabilmente la 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 tristezza è fatta in questo modo perché era stata già divorata dall'interno mmm aglia aglia che brutto divorate dall'interno è bruttissimo poco ma sicuro abbiamo già guardato tutto sembra di sì di qua si torna indietro giusto beh non esattamente però abbiamo già abbiamo già guardato tutto giusto eh sì abbiamo già guardato tutto sì meno male che Fauci non c'è e che adesso arriva mi tira un mal rovescio e mi mangia quindi nulla via e sguscia via scopri segreti ah abbiamo già fatto oh trovo modo per aprire la porta segreta non scherzano affatto acciaio serratura con combinazione oh aaaah troviamo l'indizio allora è una password da quattro cifre no? ma io credo io credo che possa essere qui da questi quei oggetti questi sono dieci anni qua cosa c'è scritto? qua c'è scritto 1976 può essere perché questa è la ricevuta dell'orologio è stato comprato nel 76 quindi l'anniversario probabilmente è stato nel 76 mi proviamo a mettere 1976 1,976 dai così si può provarci nel caso dobbiamo rileggere gli echi però non mi pareva di aver letto numeri negli echi quindi orca miseria vai 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 corri corri qua 1976 vai 1,976 mi ha fregato mi ha fregato mi ha fregato davvero non aveva un sole chi c'era la voce ma lo venne a sentire oh Lily va bene dobbiamo rile dove è mi ha impostato sta dormendo ok ero in coma per questo che non capivo un cacchio ah qua dietro no no questo non voglio riascoltarlo perché non c'erano numeri ed è bruttissimo dov'è tutte cose mi sa che devo mi sa che devo 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 raggiungere la soluzia guardando queste due cose penso ci fosse una voce quindi ordine 3,4,2 14 del 0,4 14,4,76 0,4,76 provo a segnarmi da qualche parte ehi ho ritrovato la lista ma com'è possibile che io ritrovo ho ritrovato la lista delle cose dove è una penna adesso eh ma ti pareva oh era per terra lasciatemi prendere un secondo la penna che se no qua se no qua non si combina un cacchio non si prova allè allè presa perfetto vediamo un po' che cosa succederà quest'oggi quindi ah giusto qua c'è la data 14,4 più 1976 non credo di dover tenere in conto anche gli altri numeri no ah ehi c'è qualcosa dietro? non posso girarlo qui invece c'è c'è la roba dell'orologio ok e dice solo dieci anni ecco un pensierino che ti aiuterà a tenerlo d'occhio ti amo tesoro e qui manca l'orologio e allora nulla di dieci anni e nulla secondo secondo me dovrei avere già tutto dovrei avere già tutto in regola oppure esperienza che troppo corporea ti piacerebbe coise vediamo 0 4 0 4 7 6 no 14 del 0 4 7 6 mamma mia adesso con sta password non troverò mai più controllati bene in giro coise it's not possible non è che magari sulle note siete di nuovo preoccupato che qua non c'è nulla non c'è nulla dobbiamo fare qualcosa dobbiamo fare qualcosa no c'è un mo 27 febbraio 27 febbraio 27 febbraio proviamo il 26 vediamo vediamo se è così intelligente 27 febbraio 27 0 2 e per caso questo 7 0 2 no dannato cerchiamo eh devo tenermi qui bla 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 no elenco delle cose da fare alzarsi non spegnere la sveglia medicina controllare qualcosa della foresta controllare L controllare lo studio libri proseguire la ricerca se c'è tempo a sviluppare le foto raggiungere l'hotel buttare i vecchi documenti rafforzarsi ehm sento che sta uscendo si insuona nella mia mente vuole uscire non può uscire non glielo permetterò ehm sale da solo sono indeliranti altro posto ooooh hmm qui c'è un gatto bianco e trovo modo per aprire la porta segreta grazie vai gatto svelami le tue password e come vuoi che io riesco ad aprirla sta roba ehm marca miseria ma figurati quindi qualcuno ha usato questa porta di recente no oh mio dio l'ho appena visto no 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 ci sono ci sono le impronte digitali le vedo da qui le vedo da qui guardate uno sei e nove no non tre uno sei nove uno scusa ma posso sapere una cosa cioè allora adesso no uno sei nove le cose no e le vedo adesso se uno sei nove quindi uno sei nove su questi oggetti suoi appunti c'è uno sei nove allora uno sei nove millenovecento millenovecento qualcosa ma allora è stupido cioè ma ma questo gioco è stupido c'è l'uno c'è il sei c'è il nove millenovecentosettantasei perché perché allora prima non me l'ha fatto fa cioè scusa adesso gioco ti prego mille novecento settanta non tre uno nove sette sei scusa gioco cioè che data vorresti dimmelo tu vuoi un millenovecentosessantasette millenovecento non seicento che Napoleone non era nemmeno Napoleone seicento millenovecentosessantadue millenovecentosessantatré uno nove sei quattro uno nove sei cinco perché millenovecentosessantatré perché millenovecentosessantatré che cosa ci ha fatto il millenovecento lasciamo stare è andata sulla cosa era scritto millenovecentosettant dieci anni l'anno di matrimonio va bene a posto ecco perché c'erano anche tre numeri fauci scappa cosa è successo no ma scusa cosa è successo ma ce l'ho l'avevo anche visto ma cosa è successo perché mi ha preso cos'era davanti a me ma no dov'era marianne ma quindi ma scusa ma 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 non mi lascia manco un secondo di tempo sto fauci ma fauci ma lasciami un secondo stare dico io no mi lascerà un secondo stare per correre no no subito così devi correre fin da fin da immediato immediata subito devi correre marianne scappa 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 marianne scappa girate ma come perché perché marianne c'è ho capito space per fare il coso non me lo lascia fare non me lo lascia marianne non hai energia cosa è non dimmi che devo prendere energia per liberarmi per poi scappare marianne scappa corri ma perché qual è il problema di questo gioco qual è il problema di questo gioco qual è il problema suo prendo l'energia spirituale ho capito il problema è che non ho l'energia spirituale quindi io torno indietro gioco gioco abbiamo 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 bugato il gioco noi non possiamo scappare da fauci perché non abbiamo l'energia spirituale è finita ma perché ma perché adesso 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 mi sento stupido però cioè si può sapere che cosa devo fare se io non so come le danne senza difesa contro il pericolo del mondo spirituale previ space per rilasciare energia e creare uno scoppio spirituale c'è un piccolo problema amico io per fare quella cosa devo essere carico e se non sono carico non posso fare lo scoppio spirituale e dato che non posso tornare indietro per ricaricarmi ci siamo appena disintegrati tutto per non so che motivo mvn scappa perché perché adesso ha funzionato perché tu dove eri cioè ma che cosa è successo adesso perché adesso sono riuscito a fuggire cosa ho fatto di diverso no 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 perché no cosa devo fare per sbarazzarmene ma scusate cosa ho fatto di diverso da prima nulla era un gioco stupidissimo vabbè lasciamo stare lasciamo stare maryanne è un po è un po così fa cose un po con lì un po con la selva energia mi sembra un uomo disperato è fatta non lo sapranno mai non potranno mai saperlo non capirebbero non mi perdonerebbero mai ma sono al sicuro ma sono al sicuro conta solo questo separazione è l'unico modo aaaaa 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 cosa è questo cosa è questo una specie di rifugio anti-atomico eh probabile tanto sta che adesso dobbiamo trovare cose aaaaa bene bellissimo lui come al solito taglialo tutto che è bellissimo taglialo ti prego ti prego taglialo taglialo che problemi hai taglialo devi tagliarlo dritto vai dritto taglialo che su no ho sbagliato tasto ho sbagliato torna in te mamma mia oh quanti problemi qua in fondo non c'è nulla andiamo di qua oh mio dio quanto è enorme questo posto cioè io qua dentro cosa devo fare esattamente vabbè adesso devo trovare energia giustamente adesso devo trovare energia per per poter aprire quella porta lassù quindi nulla cerchiamo questa energia come mai c'è un rifugio anti-atomico qua sotto tra l'altro ah che siamo al piano vi sembra una via uscita ma è parzialmente bloccata ah ok per arrivare con l'avvio di uscita posso fare qualcosa qua no risposta no attenzione però nel mondo degli spiriti qua sotto non c'è nulla oh ah posso passare ah fate strada forse posso pompa via l'acqua e libera il passaggio ok va bene ah pump meccanismo controllo water level indicator misura il livello dell'acqua nel nella stanza due water flow direction cambia la direzione dell'acqua e inizia inizia a pompare l'acqua ok e figuriamoci appena appena capire come funzionava non c'è nemmeno corrente qua eh scusa questa cosa non ha se ah siamo tornati qui ah ah vabbè oh ok quindi quindi control room noi siamo nella control room quindi questa di qua è la tank 2 volve l'uscita è nella 2 quindi noi dobbiamo north exit ok va bene noi dobbiamo svuotare la 2 e dobbiamo riversare l'acqua nell'1 nel 4 quindi se è questa l'idea che ci siamo fatti giusto infatti qua vedo che l'est chamber è completamente piena qua se entra il chamber è a metà quindi io dovrei riempire la west e riempire i tenconi ok andiamo a trovare l'energia adesso adesso che siamo fatti una bella idea vediamo un po' cosa succederà parapà parapà aspettate aspettate adesso noi abbiamo messo su off si metto su on adesso la corrente c'è e dato che abbiamo aperto la porta dall'altro lato dobbiamo farci tutto il bel girone andare però prima voglio provare a fare una cosa qui per esempio nel mondo spirituale non c'è acqua quindi vediamo un po' cosa possiamo fare di bello qua sotto ah la fonte energetica guardate un po' qua coi sconte bravo via la perfetto torna a casetta e abbiamo fatto tutto pronti? quindi qua adesso possiamo benissimo spegnere spegnere perché tanto noi abbiamo l'energia che ci serve quindi andiamo di qua papaparapapapa papapapa papapapa vai esplosione energetica spam A posto? Muccio perfetto Uomo disperato sempre Noi ci imbattiamo per la prima volta nel luogo Ah ci imbattemmo nella prima volta nel luogo Pensai che si tratta semplicemente di un vecchio bunker tedesco Poi gli dico le idee qualche provvista scaduta Dopo un paese di settimane di scave ci rendiamo conto Che il vecchio baffetto doveva avere grandi piani per questo posto L'intero sistema di gallerie sotterranee, muri di cemento, armato Non mancava nulla Forse aveva intenzione di costruirsi un rifugio nella foresta Nel caso in cui tutta quella storia della razza padrona non avesse funzionato I comunisti fecero quello che sapevano fare meglio Se ne impadronirono Volevano riconvertirlo in un rifugio anti-atomico Installarono persino una rete elettrica ma è tutto ciò che fecero Per il sogno del Niwas in France Ah poi il sogno del Niwas in France Fortunatamente per me tutta la faccenda era super segreta E io mi sono assicurato che lo rimanesse Per quanto ne so quasi tutti quelli che ne erano a conoscenza morirono nel massacro Non lo chiamerei proprio un risvolto positivo Ma poteva andare peggio Se la successione dovesse precipitare abbiamo un posto in cui nascondersi Nasconderci Perfetto Quindi sistemiamo tutto Bene, it's on Di qua Perfetto Entrambi Ah posso andare laggiù e riempirli manualmente Dici? Ah giusto Giusto, ho capito, ho capito Quindi praticamente io adesso devo usare la water pump Per riempire la central chamber Esatto, esatto, esatto L'avevo capito, l'avevo capito Grazie Marianne Non andiamo a destra Noi non andiamo a destra Certo Sono un enorme debito con te Fauci Sì sì Gigantesco debito con te Mamma mia se sono in debito con te Pazzesco Ma non per questo mi farò mangiare Oh no No Cosa succede? Perché non posso più Oh no Oh no Oh energia Oh energia, oh energia Posso difendermi Posso difendermi da Fauci Sì però certo che è un pezzente Sì ma io non voglio andare di qua adesso Cioè c'è lui Dai Ma ti prego Cioè se io vado di qua Esplodo adesso Era la Joe Era chiaramente la Joe Però lui adesso è in questa zona Cioè se io scendo Devo Cosa devo fare adesso? Lui è qui Lui è qui in questa zona Ah per andare a prendere energia posso Lo scusate eh Fatemi fare Fatemi fare un surplus Finchè ci siamo qua Così almeno Lo scusacciamo per bene Se ci fa ma Abbiamo due dosi d'energia Bella informazione questa Perché effettivamente una spalla ci era Una spalla ci era Ci si era spenta Dopo aver fatto uno scoppio Molto interessante Quindi così possiamo Combatterlo Stordirlo Non lo so Lo scopriremo Lo scopriremo con qualche game over Perché sono sicuro che perderemo qualche volta qua Il signor Fauci non perdona Dove Fauci? Questo è l'interruttore? Manca la valvola Please be around Please be around Io spero solo che non ce l'abbia Fauci Qui dentro Beh tronchaisi E lo lavoro Vai Fatto Ah a posto Presa Valvola Di qua cosa c'è? Ah Di qua si passa per uscire Di qua c'è l'uscita suprema Ho capito Ho capito Tutto Ah penso fosse un foglietto importante Dov'è qua? Questa Dov'è la valvola? Però adesso scusate Ma dov'è Fauci? Adesso c'ho paura L'ho aperto? Sì ho capito Ma dov'è Fauci? Lo devo picchiare? Devo fare Devo esploderlo? Devo esploderlo Dov'è? 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 Lilian Francis Premiera Ursula Lei era insaziabile Lei era insaziabile L'unico riuscito a scappare Ma non durano Non durano Non durano mai Perché io dovrei durare? Scusa? Perché io dovrei durare Da Come vestito? Non voglio Forse Forse ce la caviamo ragazzi Forse ce la caviamo Semplicemente Perché Fauci Non ci vuole Non ci vuole Non ci mangia subito Qua è solo dialogo Tipo Molto peccato Molto peccato Però effettivamente In questi corridoi Non avrei saputo Come scappare Scusa? Ah certo Certo ho capito Ho capito Ho capito Cosa dobbiamo fare Ho capito Nel water tank Sta solo metà acqua Rispetto al chamber Quindi dopo Dobbiamo spostare Tutta l'acqua in uno E liberare uno Di due chamber Penso che libero Quello est Perché ho già trovato L'uscita Quindi adesso Liberiamo quello ovest E entriamo In quello ovest Andiamo Sì Allora io adesso Io adesso C'ho l'energia Mi posso difendere Come voglio Lo incontro Lo esplodo Una flashbang Abbiamo visto Che gli fa male Tanto l'energia spirituale Certo Non lo coppa Purtroppo Non lo coppa Però Almeno gli fa male Questo è quello che voglio Già Ok Molto bene Quindi scendiamo da qui La cosa energetica Perché? Forse perché Potevo andare anche di qua A prenderla Ah Ecco perché Ti prego Fauci Non mi trovare Va bene Fai il saltello qua Pia questa energia È vero che posso correre È vero L'energia non è che mi fa camminare Io posso sempre correre È vero Allora giriamo questa tank Allora Sembra che Fauci Abbia rilasciato Qualche Qualche prole Ready for duty E io adesso devo correre però Corri corri L'energia ti deve durare A posto Ok Mi rimane Una carica esatta Mi rimane Una carica esatta Di energia Questa probabilmente Ci servirà la vita Contro Contro Fauci Ma ne sono sicurissimo No no Non sono qui Ah lo vedo È lassù Ma è sazia Ma è caldo Vecchia Summata Randello Di che sto parlando? Questo tizio inquietantissimo Voglio che finisca Il prima possibile Ok quindi Adesso Portiamo tutto Al west chamber Ovest Poi Portiamo L'ultima metà Dell'est Al centrale Buttiamo Mettà acqua Nel water tank 1 E portiamo Tutta l'acqua Al chamber Water pressure Al west Ed è così Che abbiamo risolto Acqua scura Che bello achievement Esatto E dovremmo scappare di nuovo Da Fauci Però stavolta Abbiamo l'energia Non ci frega Anzi Andando da qua Anzi Ci facciamo doppia Doppia dose D'energia Io adesso so O devo scappare Eccolo È laggiù È da indossare Non posso uscire così Solo Nudo Freddo No Cosa so Adesso scoppio Da qua Pensavo Che gli avrei fatto Posso dire Pensavo sarebbe stata Questa la soluzione Mandarlo via così Invece Invece no Peccato Forse si sono un po' Sprecati Secondo me si sono un po' Sprecati Posso dirlo Si sono un po' Sprecati L'idea era molto bella Del gioco Però C'è C'è poca Poca azione All'inizio era molto bello Che c'era il coder E era bruttissimo Che ti inseguiva In tutti i modi Possibili Possibili Immaginabili Adesso però Si sono un po' Spento La scintilla Dell'horror No Un po' Un po' Deluso sono Ehi Scusami Niente più fame Niente più freddo Niente più vergogna Devo arrivare laggiù Devo arrivare laggiù Accendere la corrente Che lui la odia No 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 Allora L'idea ci stava Ho capito No Io Aspetta Ce l'ho Ce l'ho Ma ho energia Dai Ce l'avevo L'energia Stavolta Ho capito Ce l'avevo Posso dire che ce l'avevo Comunque ho capito Ho capito Ho capito Cosa devo fare Devo fregarlo Devo fregarlo Perché lui Nel mondo dello spirito Lui è attualmente Nel mondo dello spirito Quindi io devo correre di là Mandarlo il più lontano possibile Quando mi prende Ritorno nel mio corpo Perché ho visto che si può E dopo con il corpo normale Vado lì E do energia Questa qua è la soluzione Esatto È per questo che mostra Solo che lui è veloce Questo è il problema Quindi devo andare Molto lontano Il nostro dolore Corri Marianne Corri 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 Azionalo Perfetto No col cacchio Che torno qui Col cacchio Che torno qui State lontano Mamma mia Che pezzente Sto Fauci Spero che Lily Thomas Eravate qui Non posso Non posso nemmeno usare Non posso nemmeno usare L'intuizione Adesso si Mamma mia Cos'è questo? Panello di controllo Ah Dynamo Waiser Coso Non tocco nulla Cos'è nassi qua? Una lina sottile Ecco quello che So Penso di sapere I poteri Provengono Dallo stesso luogo Ma possono Manifestarsi In modi diversi Sembra che Lei esista In entrambi i luoghi Come la sua mente Posso occupare Due corpi Allo stesso tempo Ok E lei Siamo noi Marianne Per lei Ogni cosa che accade In un luogo Influenza l'altro Vede il confine Tra i due O sono Una cosa sola Ah no Quindi Tutte queste cose Sono di Marianne Due ipotesi La morte Dirà del velo Tra i mondi Così la mente Appena nata Non deve dividersi Ha senso? Forse sì In qualche assurda maniera Questo Thomas Non riesce a capire Un cacchio Non riesce a capire Almeno ci sta provando Oh Davvero? Quindi praticamente Fauci viene Dalle tue Dalle tue Dalle tue Libro Preferito Mi fa piacere Ok Quindi devo fare Qualcosa qui Fatemi vedere un po' First Coso Ok vediamo Aspetta No Non Don't do this to me Riattiva la corrente Carbonizzato Qui Perché la porta qui È chiusa Perché la porta qui è chiusa Immagino No Guarda si è aperto questo Guarda se adesso spunta Fauci Mamma mia È lo spavento che prendo Sarebbe giusto Anche al momento Che prenda spaventi Un horror C'è ok Che non mi voglio Tanto male Però Cosa è successo Qua dentro Sfondata dall'interno Ha usato Uno scopio spirituale O fusibile Oh yes Oh yes Ma dentro cosa c'è Oh Ah lui riteneva qui Lily Thomas Da solo Sale Che avrei mai pensato Che fosse così semplice Un po' di alchimia Infusione spirituale Ed ecco fatto A quanto pare le storie Che girano erano vere Comunque la stessa è pronta E funziona Funziona davvero Per la prima volta In vita mia Posso sentirmi solo È davvero meraviglioso Ah Adesso sta tentando modi Per allontanarsi Dall'altro Thomas Così qui dentro Con un ago infilato nel braccio Tutti i giorni È povera Però così immagino Anche Fauci non c'è a parlare Ancora il sale È su tutto il perimetro Della stanza Ah quindi letteralmente Il sale blocca Cioè il sale Il sale Il sale Le strelle sul mondo Beh è qualcosa Le parole non possono Ah che bella metafora Le parole non possono Non possono La stanza è piena di bambole Unicorni Testiti Così poteva farsi bella Ma non c'è nessuno Che la vedesse Oh È abbastanza Diciamo che comunque Thomas Thomas non è cattivo Era disperato No Thomas era chiaramente Un uomo disperato Guarda Giuro Se spunta Fauci Io non so cosa fare Mio dio vi immaginate Che spunta Fauci Ci sta per mangiare Arriva Thomas Se lo distrugge Sarebbe fantastico Ma che sto fusibile Sia fatta Oh mio dio Ma ti prego Ti prego Non dirmi Non dirmi Che era un Non dirmi Che era un Un indovinello Ce l'ho indovinato così Bello Molto minimalista Cosa c'è in giro Nulla Oh Muffa Sembra fresca Come Come fai Best decklist Ciao Buonasera Come va Come stai Come stai Ah Come puoi vedere Oggi stiamo qua Su Su the medium Stiamo continuando L'avventurozza Di Della marienne Ho uno specchio rotto Ah quindi devo trovarti tre pezzi Ah lì Alice Alice è un pezzi delle meraviglie Come no Come no Non ho risposto Mi pareva di sì L'avevo anche visto Il messaggio Mi faccia vedere Mi faccia vedere Poi effettivamente Gli altri messaggi Non li avevo visti È che non Non arrivano Non arrivano Le notifiche Su instagram Cioè io solo Quando vado su instagram Vedo che ci sono messaggi Non Non mi arrivano Le notifiche Oh È uno Nulla Andiamo a cercare Questi frammentosi Di specchio Allora Dov'è Dove 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 li ha messi Dove Si sono distrutti Soprattutto come Come hanno fatto Spezzi di specchio Ad arrivare in luogo Così lontano Dallo specchio originale Nascosto Però Cosa è qua Ma davvero Vitamine Antibiotici Ah Povera Persino per i suoi instanze Non c'è nulla qua Nemmeno un pezzetto di vetro E andiamo avanti allora Io ho un po' paura Di andare dall'altro lato Però posso dirlo Cioè almeno Almeno Questa porta era chiusa prima Nel bagno Un pezzo Un pezzo di vetro Nel bagno Va bene Tutto a posto C'è altro Che Una lavatrice No Ah sì Una radio Non funziona Qua non c'è nulla Va bene Ti lagga la live in 1080 Ma lagga te O lagga la live Perché qua A me mi sta dicendo Che va tutto a posto Perché non riuscì mai Ad avvenire la sua passione Ah è giusto È vero L'architetto In un'altra vita Stare a distanza Oggi Mi ha quasi visto Mi ha quasi percepito Avrei dovuto saperlo Devo fare più attenzione Stare a distanza È solo che Io non Non c'è un giorno In cui non pensi a lei Penso So di avere fatto La cosa giusta A lasciarla all'ospedale È meglio così Soprattutto per lei Ma continuo a pensare A quel giorno Quando finalmente accadrà Quando scoprirà Chi è davvero Sarà confusa Spaventata Io dovrei essere lì Accanto a lei Per aiutarla A dare un senso a tutto Per direle Che va tutto bene No Ce la farà È forte proprio Come sua madre Oh ma che gentile Thomas Ai nostri confronti Solo che alla fine Abbiamo vissuto con Jack Non con lui Che è successo Lui sapeva Ma allora Lui sapeva Pompe funebri Ultimo saluto Jack Orkan Numero di telefono No Va bene A quanto pare Thomas ci ce ne va d'occhio Ma sono un po' più felice Ora inizia la magia Vedremo un po' La nostra magia Qua adesso Lavorava Determination Undertale Cosa sta lavorando? Cerchendo di mandare via il mostro? Per recuperare l'altra parte di te Allora Qui ci ha beccato Marianna Poi tutte cose strane Cosa è andato in giro per il mondo Blablabla C'è Lucifero C'è C'è un mostro molto simpatico Mi sto distruggendo le spalle Aspetta Non va bene Che la posizione Vi distrugga le spalle Non mettetevi in quella posa Che male Oh davvero Mi ha fatto malissimo Aia Andiamo a vedere l'altro lato Sperando che non ci Sperando Oggi magari incontriamo Thomas Magari c'è Thomas Mi immagini Ah giusto Non era un portone Era una porta di uno Una porta di uno Dai Mettiamo i pezzi Vai Il motivo di invento del puzzle Qua si mette questo To Qua si mette Tutto qua ciccio Questo E qua si mette ciccione Eccolo qua Specchio specchio Delle mie brame Attenzione Il momento in cui ci incontrammo C'è Thomas C'è Thomas Sei tu Sei viva Thomas In un certo senso Si E' l'altro E' lo spirito You're the other one You're the other one Spirit Spirit Ah il segugio Sparito? No Sono intrappolato Attenzione Attenzione Che qua Anni nel folle mondo In Vienna Ah Ah Ok Perché sei così importante Non lo so Non sente la sua presenza Cos'è? È morto? Oh mio Dio L'introduzione Tutto quanto Dimmi come è iniziato Tutto quanto Ed è qui che siamo Comunque era molto sulla difensiva La Marianne Le copre entrambi adesso E comincia tutto Ah che cosa ha? È una voglia È una cicatrice Inizia tutto con una ragazza morta E quindi adesso Usciamo da qui Esatto Ha saltato tutto E via Ma va Ma va Cosa pensate su Thomas? Spirito almeno Perché è un'altra persona Ah ok 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 Quindi Thomas non ha ucciso Tristezza È qui che la teneva Quella cella lì dietro Che non esiste In un mondo Che mantiene l'altra Ah Ah Ok molto interessante Una stanza fuori Da ogni regola Spirituale Tutto i suoi poteri Da me E ha qualcosa a che fare Con Fauci sicuro Ma va Però quanto pare Lily È molto più potente Di noi Ok Qualcosa in lei Si risvegliò Fauci Ok Quello che cercò di evitare È ancora viva Ma come fa A saperlo Da Non puoi sempre salvare Tutti Farfallina Credimi lo so Dai Si sacrifica Speriamo almeno Che non duri Tre secondi Speriamo che non duri Un minuto Eh Cosa ha fatto Cosa ha fatto Che succede Siamo svenuti Che adesso Dobbiamo andare Al lago No 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 Lui ci ha portato Allora Innanzitutto ci ha fatto uscire dal bunker Fin qua va bene Ma ci ha malmenato Ma ci ha malmenato Fate strada fino al lago Ma così Così è la fine Ma davvero Ma no dai Ma come ci sono fatti Ma come ci sono fatti Ah ma perché C'è potuto Dio ci siamo Le volte nella mia mente Conosco ogni angolo È reale? It's real C'è una canzone La sentite? Scusate Ve la alzo un secondo Ok Ho raddoppiato il volume Quindi mi state dicendo che Lily È tutto chiarissimo ora Ma mi state dicendo che Lily È nel lago Viva Viva Dentro il lago Complimenti Complimenti a Lily Non è possibile che sia ancora viva Ha creato una sfera d'energia Si è andata in per È lui Si è andata fino all'alto Ho fatto È lei Se avete dentro il volume Nel caso abbassatelo Ah è la mente di una farfalla L'ho capito adesso Non voglio interrompere il momento Quindi Abbassate un po' il volume Sei troppo forte Eh è cresciuta È tipo in un semicoma Lilian Ce l'hai fatta L'ho capito L'ho capito L'ho capito Little sister Little sister Lily I I didn't know I couldn't remember I'm so sorry It's okay C'è C'è Qua è rimasta Liliana è rimasta qui Tutto il tempo Con Fauci Si liberò Ce l'ha Perché Ridotta Malissimo Ridotta Libro di devorare E di distruggere Eh già Ti lasciò l'ospedale Per darti una vita normale Ma adesso Fauci Non sa che Siamo insieme Ma adesso Fauci Non sa che Non sa che Siamo insieme Ma Non potrebbe Tra l'altro Per farlo Inoltre Mi È infatti Tutta pallidissima Molto più pallida Di me È una cosa stranissima Monster Si è fuori E ora Sei qui Sei l'unica Che può Trasciare Questo E come Ti E Diamo Entrambi i doni Di nostro padre Ma anche il suo destino Desiderio Non ho letto È il sogno Ma deve succedere Dobbiamo sparare A Lilian È il futuro È quello Che le desidera Ce l'ha già È tutto Che finisce In me Ma Non 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 è ancora vivo. E' per questo che non puoi uscire i monstri. E' per questo che la tristezza non voleva andare. Ma... sei mia sorella. E' la mia sorella. Non sono abbastanza forte. Non mi lascia. Solo tu puoi cercare questo. Solo tu puoi cercare quello che il mio padre non poteva. Non. Non posso. Non mi lascia. E' l'unica modo per distruttarlo. Per evitare il più di il suo sangue. Oh, dai! Che succede? È qua. Marianne? C'è qualcosa? Tristezza. Oh no! C'è Fauci! Ormai mi va stretta. Non mi serve. Ah, è un barato nel mondo degli spiriti. Guardalo che brutto. È la prima volta che lo vediamo così bene. C'è un altro modo. Marianne... Non! Ehm... 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 che è l'alba? Ehm... ía... Tristezza Tutti te l'hanno detto Tutto finisce in me Thomas Spirito Non puoi sempre salvare tutti Farfallina No No Devo scegliere Ha fatto da sola Che cosa Non puoi sempre salvare tutti Che cosa è succe Gioco Gioco Si può sapere Orca miseria Allora Allora Vogliamo parlarne Vogliamo davvero parlarne Parliamone Allora Questo gioco The Medium Se è il finale Potrebbe essere ancora una burla Ok Cioè io spero che sia una burla Perché se finisce così Questo è il peggior gioco che io abbia mai giocato E stavolta non lo dico per scherzare Cioè ok che qualche gioco finisce un po' nel mistero Ma così è troppo Così è troppo È troppo Come se avessero avuto fretta di farlo uscire Cioè scusate Allora Chiariamaci un secondo Allora l'inizio era fantastico Va bene L'inizio proprio si sono impegnati un botto Si sono impegnati Che c'è la storia La Medium Tutto il mondo Poi il mistero Che c'è questo uomo misterioso che la chiama Che però era ancora vivo Cioè Tomas era ancora vivo nel mondo reale Però insomma Poi arriviamo all'ospedale La Naniwa C'è tristezza Cioè andiamo in giro Dove c'è questo Questo mostro Potentissimo Una cosa terrificante Bellissimo La prima volta che mi segue È stato veramente da horror Spaventoso Che ti inseguiva C'era tutto l'immagine Ti inseguiva dappertutto Fenomenale Poi c'era tutto il mistero all'interno di Naniwa Poi cominciò a derivare Cose un po' più strane Cioè per esempio Mi ha Era molto 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 interessante E anche inquietante Vedere come il mangia bambini Là ti attorcigliava Là Era fantastico Ok Poi è venuta fuori dalla Casa Rossa Che va bene Magari In effetti Poi il mistero Quello è andato sempre meno a infettirsi Poi c'era Henry Che non so bene che cosa c'entrasse là Però va bene È successo così Sappiamo adesso la storia del padre dell'inizio Che ovvero era ricercato per i suoi poteri Dal comrade polacchi E poi sono successe cose Sempre più cose Cioè sono nate le figlie Dalla madre Dalla moglie di Thomas Entravano poteri Quando pare Lily Era incredibilmente più forte Di Demirienne E questo cappello Da dove arriva esattamente Non so da dove arriva questo cappello Non ho capito cosa è successo I capelli a volte sono talmente Stanti Comunque No Tutta questa storia Cioè È ok È ok Molto bella no Molto bella la storia Però A un certo punto Non è Non è stato più gioco horror Cioè a un certo punto Molto presto in realtà Cioè molto presto Non è stato più horror È stato solo storia Cioè È evitare il mostro Che ti faceva sempre La stessa identica scena Ti faceva la stessa identica scena Cioè molto triste Cioè triste Triste però da volta Per davvero Stavolta Stavolta triste Nel vero senso della parola Anzi nel secondo Senso della parola Vero che Cioè È un po' sprecato Cioè È una bellissima idea però Cioè Ah E questa musica è bellissima Che probabilmente È talmente bella Che probabilmente Mi darà il copyright Talmente bella Che probabilmente Probabilmente Mi darà il copyright Pazzesco E infatti questa parte Non si sentirà nulla Spero di no Spero di no Perché se no Sarebbero proprio dei pezzenti Posso dirlo Che sarebbero dei pezzenti Se mi dessero il copyright Qua alla fine Mentre parlo Però C'è Ah Non mi è piaciuto Posso dire Cioè Il gioco Il gioco prometteva di più Dalle immagini Da tutti i trailer Da cose Però Per me è un voto negativo Questo Cioè No Che la storia Allora La storia ha un voto a parte Rispetto al gioco Va bene La storia è fantastica Il mistero Poi si infittisce Poi ok Va bene Ok Ci sta che effettivamente Se l'ospite è ancora vivo Il 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 Spirito non può morire Però Miseria ladra ragazzi La cosa Allora già Allora I finali I finali staccati così All'improvviso No A volte vanno bene A volte no Questo è il caso di cui Assolutamente non va bene Perché C'erano C'erano appunto Due scelte No Ah no Ok Ora che ci penso è vero C'erano quattro persone Però due erano nel mondo degli spiriti Una era nel mondo reale E noi due eravamo entrambi Quindi effettivamente C'erano solo due scelte Quindi ok Si può È un finale aperto Si può Si può decidere che O ci si è sparati da soli Oppure si è sparato Alla sorellina Però a quel punto Fauci ci avrebbe mangiato Fauci ci avrebbe Mangiato A quel punto Perché era là Adesso Gioco The Medion Rappresenta il nostro gioco Più vasto e ambizioso Finora realizzato L'oggetto intimo Iniziato anni fa Ci ho messo Anima e cuore E durante la fase di sviluppo Abbiamo creato tantissimi ricordi L'uno più bello dell'altro Ma di ogni modo Sebbene la creazione di un videogioco Sia sempre fantastica Non abbiamo mai smesso Di rivolgere il pensiero A chi sta a cuore Voi Le vostre opinioni Signicano molto per noi Ci fanno progredire Come sviluppatori Ed è per questo Che ci farebbe enormemente piacere Conoscere le vostre impressioni Di The Medium Devo pensare Cosa scriverò Potrei finire Con scrivergli qualcosa Allora come stelle Allora adesso Proviamo a fare una valutazione In live no Allora La storia era molto bella Ok mi sarà tutto così Il finale Non mi è piaciuto per nulla Nonostante il fatto Che ci fossero due scelte No Cioè semplicemente no Perché non Perché non c'era scritto Che Fauci sarebbe morto Cioè lei mi ha detto Che Fauci sarebbe stato Uccidibile Mi sarebbe reso mortale E Marianne L'avrebbe potuto scacciare E poi un'altra cosa no Marianne cara Cioè Fauci Ok che se non Non so per quanto tempo Poteva stare senza corpo Ma è rimasto senza corpo Per tutti quegli anni Cioè anche se ti Anche se ti copi Comunque vai a mangiare Tutte le persone del mondo Mia cara Quindi comunque se ti sei Se ti sei ammazzata da sola Fai conto Marianne Che hai appena condannato L'intera umanità Quindi noi adesso Saremmo tutti mangiati da Fauci Brava E E altrimenti Stiamo sparando Nel finale Non mi è piaciuto Non mi è piaciuto Non mi è piaciuto per nulla No No Per quanto riguarda il gameplay Questo è un altro Tastro dolente Questo è un altro Tastro dolente È un altro Tastro dolentissimo È super dolente Questo tasto Il gameplay Il gameplay è stato Allora È stato bellissimo All'inizio Ok Bellissimo all'inizio Che abbiamo scoperto Tutte le varie meccaniche E così via No Percepiva l'horror A un certo punto Proprio il vero horror Tanta roba Ma poi Si è spento Cioè Si è spento Ma proprio Non come per esempio Avevo giocato Un altro gioco horror Qual era? Scusate Devo andare a vedere Cioè devo fare proprio Qui devo parlare Molto attentamente Avevo giocato Un gioco horror Non in live Non in live Ma su youtube Qual era? Non era con Arium Non era assolutamente con Arium Giusto 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 Era close to the sun Era close to the sun Ok Allora close to the sun Allora Era un gioco È un gioco horror Ok Un gioco horror E praticamente Com'è? Cioè all'inizio Proprio horror Terribile Terribile Cioè era Ma terribile Allora Scusa Torze Adesso mi concentro Allora Era un horror fatto bene Molto bene Dall'inizio Che c'erano queste cose Che non capivi Che cosa succedeva In questo posto Cos'era successo Poi Poi cominciavano ad apparire cose Che si aggiravano un po' Là Che ti mettevano l'ansia Per dire Oh mio dio No Non voglio che mi prendano Cose così perfetto No E poi fino alla fine Fino alla fine Nonostante il fatto Che abbiamo Nonostante il fatto Che si fosse capito Cosa c'era di male In quel posto Cioè Non era mai Non era mai qualcosa di Qualche scena riutilizzata Cioè era tutto nuovo Cioè E E E quelle cose Che a un certo punto Siuscivano un po' Dappertutto E Del perché erano lì Poi io Anche te A un certo punto Eri E al certo punto Eri meno umato Perché non Doppicavi tutto Dovevi fuggire Da quelle cose Cioè Avevi proprio l'ansia Cioè sempre l'ansia Da horror Del tizio Che ti prendeva Cioè Quello era davvero Fatto bel gioco Ed è stato sottovalutatissimo Cioè è stato giocato da pochissimi Però Era un bellissimo gioco horror Fino alla fine Ha rispettato il suo horror E c'è stato un finale Che ti ha detto Cos'è successo Invece qua L'horror Si è spento letteralmente A metà Se non a un terzo Cioè l'horror Si è spento Del tutto Dopo la prima apparizione Di Fauci Dopo che è diventato Un tizietto qua Che andava Veniva di tanto in tanto Così Bellissimo Il colpo di scena In cui veniva nel mondo reale Quindi non volevi Che assolutamente Che ti beccasse Però già all'inizio Fauci nel mondo reale Era interessante Perché faceva cose almeno Distruggeva le cose fisiche Così Tu dovevi star zitto Dopo che la cosa Non aveva più servita a nulla Cioè la seconda volta Che abbiamo Abbiamo dovuto affrontarlo Nel mondo reale Non serviva nulla La meccanica di star zitti Cioè nulla Praticamente nulla E secondo me Ritornando a parlare Di stelle Qua io darei a questo gioco Tre stelle Ma per pietà Cioè io sono stato Sempre buono Nelle votazioni Perciò io gli darei Tre stelle Ma si meriterebbe due Allora per il mio Per il mio avviso Si metterebbe due Ok la grafica è stupenda Va bene La grafica è stupenda Design Bellissimo Va bene Però Io ho sempre detto Che non è la grafica Che fa un gioco La grafica è bella Da vedere Si sicuramente Ha un bel impatto visivo Però È il contenuto Che fa un gioco Io gli do tre stelle Scelta fine Gli do tre stelle Darò tre stelle Non mi è piaciuto molto Fermi Aspettate che cambio Fermi tutti Aspettate che cambio il voto L'orologio L'orologio Ok Ha giusto quel mistero? È tutto quello? Adesso Eravamo nel mondo degli spiriti Ok Quindi presumibilmente Setendo l'ansimare Di un uomo Poteva essere Thomas Spirito Poteva esserlo Allo stesso tempo però Non mi dava l'impressione Di esserlo Potrebbe essere stato il vero Thomas Che in qualche modo è entrato Nel mondo spirituale Non so come Non so perché Però effettivamente Scusate Adesso c'è anche da sapere Una cosa Adesso 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 è ancora peggio Adesso posso dire Ancora peggio Perché adesso Quell'orologio È vero che mancava Nel mondo reale Quindi è interessante Sapere dove è finito Ma perché nel mondo degli spiriti? Arrivo Ma adesso Perché nel mondo degli spiriti? Dico io Guardate Riprendiamo 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 dopo cena La conversazione Va bene? Tanto fatemi vedere Cosa ci vuol dire Se faccio continua Nel caso esco subito dal gioco Se c'è di nuovo il finale Nah Esci dal gioco Sì Bene Allora Ci sono ancora 10 event da fare Ok? Ci sono ancora 10 event da fare Però Nah Però è proprio No 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 Guardate No no C'è Votazioni altissime qua Ma No No Secondo me non se le merita Secondo me non se le merita Non se le merita proprio No 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 Signori Lasciatemi andare a cena Poi vediamo un po' cosa fare Potremmo cambiare gioco Magari torniamo su Magari torniamo su Remnant A questo punto Non vedo Non vedo cosa fare Cioè Qua il gioco è finito No Peccato Peccato Molto peccato Molto peccato Non reputo quasi mai Negativamente un gioco Ma questo Non mi è proprio Preciuto No Eh signori Grazie per essere stati Fino a questo punto Lasciatemi pure andare a cena Un secondo che mi Mi nutro di qualcosa Come Fauci E nulla Non ci vediamo tra un poco E Probabilmente dopo Cambiamo anche gioco Adesso vediamo Anzi magari Sapete cosa Interrompo la live Direttamente La interrompo E dopo torniamo Torniamo all'azione Signori Grazie per essere stati qui Grazie per aver seguito La serie di In The Medium Ma noi Adesso Scappiamo Scappiamo Adesso c'è la cena E dopo riavviverò La live Signori Arrivo Arrivo Sono chiamato Grazie ancora A tra poco A dopo cena Dopo cena Buona cena a tutti A tra poco Grazie a tutti